Grazie a tutti. 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 I tecnici del Comune hanno fatto notare che dal punto di vista urbanistico l'intervento proposto nella parte in cui è previsto il mantenimento degli sbalzi non è conforme al piano particolareggiato di Ortigia. In attesa di risolvere i problemi di ordine burocratico ed economico, visto che allo stato degli atti non sono offerte sufficienti... A Priolo il sindacato ha programmato lo stato di agitazione dei sei lavoratori della ditta di pulizie al Comune. Sentiamo. Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell'appalto delle pulizie al Comune di Priolo, nonostante la rassicurazione fornita all'incontro attenuto il 21 novembre dal vice sindaco Gozzo sugli interventi per garantire l'orario di lavoro e il sigo salario ai lavoratori dell'appalto pulizie del Comune, le organizzazioni sindacali lamentano il mancato rispetto degli impegni assunti. Il Comune di Priolo con una comunicazione inviata alla ditta BSF, appaltatrice dei lavori, ha comunicato il 27 dicembre che la drastica riduzione della commessa per le pulizie del Comune in regione dell'esclusione del servizio di pulizie di alcune strutture come il centro di urno anziani, il centro senologico e loggiato esterno di fatto viene mantenuta. Ciò determina una riduzione delle ore lavorabili e conseguentemente una forte deportazione dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici della ditta. La BSF ha chiesto un incontro con le organizzazioni sindacali per prevedere una diminuzione dei contratti di lavoro per i sei dipendenti, maggioranza donne. Riteniamo gravissimo, dice Stefano Gugliotta, segretario generale della Filcams Siracusa, che una pubblica amministrazione non solo non mantenga gli impegni assunti, ma perseveri a praticare un metodo quantomeno immorale di escludere il sindacato e le comunicazioni che vengono limitate alla ditta appaltatrice. Questo provvedimento, secondo il sindacato, è illogico perché mette in discussione una spesa già inserita in bilancio. Il sindacato si dice pronto, in assenza di risposta da parte del committente, a inscenare una manifestazione di protesta dei lavoratori. Rimaniamo a Priolo perché una pizzeria è stata data alle fiamme la scorsa notte in Viale Annunziata. I gnoti piromani in azione a Priolo ai danni di un esercizio commerciale. Qualcuno ha cosparso la saracinesca d'ingresso della pizzeria Hollywood di Viale Annunziata. Le fiamme hanno danneggiato l'entrata pur con danni per fortuna limitati. Scattato l'allarme, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme prima che potessero propagarsi e danneggiare ulteriormente il locale pubblico. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza installate in alcuni esercizi commerciali della zona per poter risalire ai responsabili del gesto. I carabinieri stanno quindi approfondendo le indagini su quale possa essere il momento del danneggiamento della pizzeria. A Priolo non è la prima volta che si verificano attentati con il fuoco. Qualche mese addietro è stata incendiata la vettura di un poliziotto. Sempre lo scorso anno è stato raso al suolo un chiosco per la rivendita di panini. In quella circostanza i titolari dell'esercizio commerciale, pur rammaricati per quanto subito, hanno reagito immediatamente reinvestendo nella loro attività commerciale. Da Priolo a Palazzolo, per un altro fatto di cronaca, una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per asportare uno sportello Bancomat. Il secondo caso, nel giro di anni, è avvenuto proprio a Palazzolo. Un commando è entrato in azione alle prime luci dell'alba per asportare l'intero sportello Bancomat di un istituto di credito. L'episodio è avvenuto in via Dante, a Palazzolo e Crede. I malviventi sono arrivati con un mezzo pesante dal quale hanno scaricato un escavatore con cui hanno divelto il portone d'ingresso della banca agricola di Ragusa. Si sono poi impossessati dello sportello Bancomat, che è stato letteralmente sradicato dalla posizione per caricarlo sul camion. Una volta completata la manovra, hanno abbandonato l'escavatore in mezzo alla strada e sono scappati. Il rumore provocato ha svegliato in soprassalto gli inquilini dello stabile in cui insiste la banca. Scattato l'allarme, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Noto, che ha avviato le indagini per scoprire i responsabili del gesto, che hanno fatto in tempo comunque a tagliare la corda. E' in corso di quantificazione l'ammontare del bottino del colpo. La banca è stata chiusa per l'intera mattinata e ha ripreso le operazioni soltanto nel pomeriggio. E' la seconda volta nel giro di due anni che malviventi prendono di mira un istituto di credito a Palazzolo. Due anni fa, in piena estate, fu assaltata da un commando armato all'Agenzia dell'Unicredito e di Corso Vittorio Emanuele, sempre con la stessa tecnica della riete contro lo sportello Bancomat, dell'istituto di credito. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare le cause della morte di un corriere che è stato ieri trovato morto nelle campagne di Portopalo, anche a Zannato. Ma sentiamo il servizio. Sarà l'autopsia disposta dal PM Tommaso Pagano a stabilire le cause del decesso di un corriere. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando i carabinieri della stazione di Portopalo sono intervenuti in località Pagliarello, dove all'interno di una proprietà privata e in una zona di periferia, nell'area circostante, un'abitazione, è stato ritrovato il cadavere di un 55enne di professione fattorino, riverso supino in terra. Poco distante è stato ritrovato il furgone utilizzato dall'uomo per effettuare le consegne. Dei primi accertamenti medico-legali effettuati dai rilievi eseguiti dal personale dei carabinieri di noto, sembrerebbe che il decesso sia da attribuire alle diverse ferite create dai morsi agli arti superiori e inferiori, con abbondante fuoriuscita di sangue dei tre cani di razza Corso che si trovavano all'interno della proprietà. La vittima si era recata sul luogo dell'evento per effettuare la consegna di un plico. La salma, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata trasportata all'obitorio del comune di Pachino per l'ispezione cadaverica per stabilire con precisione l'ora della causa del decesso. I cani ritrovati all'interno della proprietà sono stati affidati in attesa dello sviluppo delle indagini ad un canile della provincia di Siracusa. Cambiamo argomento. Avis Comunale servono donazioni di sangue. L'appello del Presidente Moncada. Avis Comunale, i numeri del 2017 non sono esaltanti. Secondo il Presidente Moncada, i donatori ci sarebbero, sono poche le donazioni, un paradosso che necessita di un appello alla solidarietà. 2017 è l'Avis Comunale che si conclude non del tutto felicemente, è vero che continuano le donazioni, ci sono gli abituati della donazione, però ci sono dei numeri che raccontano di un 2017 che non è andato benissimo. Diciamo che il 2017 ha avuto un incremento di donatori, ma in numero come donazione abbiamo avuto un calo di circa 89-90 donazioni. Questo calo è dovuto principalmente a tutte le prescrizioni che ci sono state fatte durante l'estate dal registro nazionale sangue e parecchie persone non sono state ammesse perché hanno soggiornato, non sono state ammesse alla donazione perché hanno soggiornato un giorno o a Venezia o a Roma perché c'era la zanzara killer. Poi quell'ultimo tipo di zanzara che è stata individuata sul litorale romano e per cui ci hanno fatto sospendere i donatori che erano stati nel Lazio anche per un solo giorno, in tutta Italia non si è verificato un solo caso di quella malattia che poteva portare. Di fatto è bastato l'allarme per sicurezza, per decrementare. E questo ci ha fatto sospendere più di 100 donatori nell'arco del 2017. 100 donatori significano un minimo di 200 donazioni all'anno, in un anno. Per cui noi diciamo che sostanzialmente, siccome i numeri rispetto allo scorso anno siamo scesi, ma potenzialmente abbiamo avuto un aumento di 150 unità. Adesso ci trasferiamo a Pachino per parlare di tasse di soggiorno, un'entrata in vigore e ecco chi e come pagarla. Scatta l'imposta di soggiorno anche a Pachino. A ottobre il Consiglio Comunale ha deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno che scatterà per tutte le strutture ricettive esistenti nel territorio comunale. Campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, band and breakfast, case vacanze, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi, vacanze. La tassa sarà calcolata per ogni giorno di pernottamento fino a un massimo di 5 giorni e sarà commisurata la tipologia delle strutture ricettive. E pochi giorni fa l'Aggiunta ha fissato le tariffe 1,50 euro per strutture alberghiere ad 1,2 stelle, 2 euro per le strutture alberghiere da 3-4 stelle e 2,50 euro per i 5 stelle. Per tutte le strutture extra alberghiere, B&B, affittacamera, agriturismi, sarà 1,50 euro e 1 euro per le strutture all'aria aperta, campeggi e aree di sosta. Per favorire la destagionalizzazione, l'Aggiunta ha deciso che nei mesi di gennaio, febbraio e novembre gli importi saranno ridotti del 50%. Esenti dal pagamento della tassa di soggiorno sono i minori fino a 12 anni e gli over 75, gli autisti di pulma, gli accompagnatori turistici, gli appartenenti alle forze dell'ordine e gli invalidi, gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale, lavoratori dipendenti delle strutture ricettive non residenti a Pachino e ancora sono esonerati artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali o eventi organizzati dall'amministrazione comunale. In questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS